ebbene ragazzi ce l'abbiamo fatto abbiamo raggiunto i 100 iscritti non è tantissimo però per me vuol dire molto quindi grazie per il sostegno ragazzi quindi per questo traguardo ho voluto creare qualcosa di speciale ho creato una compilation dei momenti più brandon o i momenti migliori dei miei video e ho incluso anche alcune scene del video di half live 2 che non è mai uscito quindi vedrete questa piccola scritta in in alto a destra e prima di partire io volevo dire che siamo molto vicini all'anniversario dei tre anni su youtube e quindi appena appena arriverà quel giorno pubblicherò un piccolo video per annunciare le le regole diciamo per un secondo qn a poi vi spiegherò tutto qua vi spiegherò tutto quanto in quel video metto questo vi lascio la compilation buona visione io ora che cazzo mi sa che ho già fatto già rovinato tutto quanto aspetta allora ok taglierò questa parte e rifarò la intro che bel giorno si è arricciato ma ancora capito perché cazzo c'è un elicottero qua dentro che cazzo mi ha chiamato dai 10 10 10 10 10 ok quello lascio lì eh sì sì i treni e pure i treni sì sì vabbè altri treni va bene mi piacciono i treni no 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 Basta incastrarti Buon salve, buonasera, benvenuti al TG delle 7 Oggi assisteremo a un tizio con una macchina che salta da un ponte in costruzione per lanciarsi in mezzo all'autostrada I danni sono enormi, l'autostrada è bloccata quindi verrà stagnata un po' di traffico sulla 5 Ha bloccato entrambe le vie dell'autostrada Il tizio non sarà sicuramente sopravvissuto Grazie per aver visitato il telegiornale delle 7 e mezza Basta scout Vanno giù come Come il puto Non bloccate la mia Arro stranzi Vai No No Non è appena successo Torniamo subito Praticamente più scavate, più andate avanti Più sbloccate nuove zone Iniziate con le pianure e potete arrivare anche con i mesi arti Le pianure e le montagne Io lo lascio lì Se si fa i cazzi suoi, io lo lascio lì E sì, sono in supervivenza se volete ricontrollare 57 volte E Ciao Non mi Non mi attacca? Ho creato il mio primo petto ostile E ho superato il ponte in effetti Era l'unica cosa che non dovevi fare Ma mi hai investito Ma mi stai investendo il triciclo Perché? E poi E' impossessato quel triciclo E' posseduto Eh, ok, adesso l'ha preso No, aspetta Eh, trema tutto Piano Piano E va più E va lontano E passano i treni E' caduto una volta Non ne cado un'altra Facciamo così Salviamo Pam Non c- No Non c- c'è qualcuno che sta glitchando male con le ragdoll e tu? e c'è un treno che sta volando via oddio il mio trenino intanto non se la passa bene le cose più buggate in sto gioco sono i camion oddio sta succedendo di tutto qua e vabbè sì senti quel treno è partito cosa ha fatto sto cecchino vabbè contento lui un po' sto in giro un sacco di munizioni un po' pro un po' un po' un po' Buona notizia, ne? No, 10, 10, 10, ok, magari non 10. No, 10, ok, magari non 10, ok, magari non 10. No, 10, ok, magari non 10. 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 No, sve, scusate Scusate, fermi tutti Abbiamo appurato che non si possono distruggere i blocchi Yeee, ma vaffanculo Aiuto Oddio Siamo toccati Aiuto, si è rotto il cane Stresciate il culo Au, 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 au Lo stronzo, lassù Eh, ma non c'è tutta la macchina No, cannone tau No E adesso come faccio senza cannone tau Ma sto facendo quel pyro Vabbè No No Oh, no Non ci voleva questa Oh, ma è in fatiga No Oh, adesso ci vorranno anni Per farla Oh, no Allora 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 Ok Oh no Laszlo E quindi ragazzi questo era il video Spero vi sia piaciuto Vi ringrazio ancora per il traguardo Rimanete aggiornati per il QNA Lasciate un bel commento, mi piace, cose varie E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao